Più Europa si presenta alle elezioni europee soprattutto con un messaggio di cambiamento dell'Unione Europea però nel senso di rafforzarla, di renderla più efficace e di renderla più capace di risolvere tutte quelle sfide che l'Italia, perché un paese singolo, piccolo europeo, non può risolvere da solo. Propone un'unione più forte per supportare l'Italia nelle sfide del mondo d'oggi. Più Europa a Trieste ha dato vita oggi alla sua prima assemblea nel percorso verso le elezioni del 26 maggio. Dalla questione della sicurezza sociale, dei salari, del lavoro, dell'industrializzazione europea in confronto alla Cina, gli Stati Uniti e gli altri grandi blocchi commerciali, dalla questione dell'immigrazione e della sicurezza, sono tutte questioni che l'Italia e nessun altro paese dell'Unione Europea ugualmente non può risolvere da sola, ma va risolto in un contesto europeo di un'Unione Europea forte che abbia i mezzi e la capacità di farlo. Luca Iuri, coordinatore del gruppo cittadino, è stato riconfermato all'unanimità e per la competizione elettorale il Movimento presenta una candidata triestina, Federica Sabati, che ha vasta esperienza in materia europea, a cominciare dal tirocinio all'Europarlamento. Più Europa presenta nella lista nord-est, a quanto noi sappiamo, l'unica candidata triestina a queste elezioni europee, Federica Sabati, tra l'altro con molta esperienza al Parlamento europeo perché ha lavorato nei segretariati, ma che viene dall'Associazione dell'Industria del nord-est e quindi è una persona che capisce molto bene come modernizzare i processi economici, soprattutto sul nostro territorio.